Allora Dora, intanto iniziamo a parlare della situazione di salute di tuo figlio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono la mamma di un bambino speciale, si chiama Felice, ha 11 anni, frequenta la classe quinta alla scuola Noi Lucidi. Mio figlio ha avuto un problema a 20 giorni di vita, ha avuto una sepsi, si dice così, una sepsi neonatale. E ha portato gravi conseguenze. Quali sono per esempio? Un grave ritardo cognitivo, l'autismo e l'epilessia. E insomma, ne abbiamo a che fare abbastanza, ne abbiamo tante. Allora, qual è il problema? La nostra realtà non è una protesta, è soltanto una situazione per cercare di comprendere che cosa sta accadendo. Certo, io sono qui solo per capire tutto qui. Allora, questa mattina mio figlio, come tante altre mattine, si sveglia un po' agitato, anche perché prende degli psicofarmaci che lo aiutano anche per le crisi epilettiche. Dicevo che non voleva andare a scuola, come tanti bambini. Come tanti bimbi, sì. E proprio questo, io gli altri anni, senza problemi, chiamavo la mia assistente educativa e dicevo, guarda, Felice non vieni a scuola, dobbiamo fare, diciamo, vieni a casa e stai con lui a casa. Ogni anno è andata bene così, quindi io aspettavo che arrivasse l'assistente a casa e mi recavo al lavoro. Tu lavori in una scuola speciale, perché comunque ti vengono incontro? Io diciamo che sono fortunata, sì, lavoro alla scuola primaria della San Berardo. Le mie colleghe, la mia dirigente, conosco la mia situazione e mi vengono, ormai sono quattro anni che sto qui alla San Berardo, e mi vengono incontro in tanti modi. Questa è la cosa che mi fa andare al lavoro non arrabbiata, ma felice, felice di stare in mezzo ai miei bimbi. Torniamo all'assistente educativa, perché non vieni più a casa? Non vieni più a casa, perché deve uscire il nuovo bando, oppure è uscito, non lo so. Ci sono dei cambiamenti tra comune e cooperativa, non so se c'entra anche la regione, non lo so Giancarlo, io voglio solo capire. Allora, cerchiamo di capire chiamando il comune o la cooperativa. Benissimo, sì, chiamiamo, sono qui per capire, perché un genitore si deve anche organizzare. Io voglio andare a lavorare come tutti, cioè ho un lavoro, voglio andare a lavorare ed è un mio diritto andare a lavorare.